Oltre 12.net Essere, e Creare, nell'Eterno Presente. De Manishore a Brescia fino al 24 febbraio. Tutto quello che sai sul denaro è falso. Tutti utilizziamo il denaro, ma sappiamo come viene creato. Esistono alcune verità che sono talmente inverosimili che faticano ad essere accettate come tali. La maggior parte del denaro è creata, dal nulla, da banche commerciali all'atto dell'emissione dei prestiti a interesse. Le banconote sono stampate, dal nulla, da banche centrali, a cui partecipano banche private, e sono quindi denaro privato utilizzato come denaro pubblico. Entrambe i metodi generano debito inestinguibile. Più volte ne abbiamo parlato in questo blog. Questo apparentemente semplice meccanismo consente di decidere dell'economia, e delle sorti, di nazioni, che dovrebbero essere sovrane, imponendo politiche economiche a seguito della crescita, inevitabile, del debito pubblico. L'artista Yervé, nell'utilizzare l'arte nel suo spirito più autentico, quello di mezzo per veicolare veri messaggi, ha creato una mostra, incentrata sulla creazione del denaro. La mostra è ospitata in locali commerciali, Planet Vigasio, a Brescia, a dimostrazione che la sensibilità su tematiche fino a poco fa tabù, si sta diffondendo. Link alla locandina, informazioni. www.oltre12.net Video creato con vedise.com Crea un video per il tuo blog. Con un click.